Ciao sono Samuele, benvenuto in questo nuovissimo video. Se non mi conosci io sono il fondatore di dropshippingkeys.com dove aiuto le persone come te a partire totalmente da zero, creare uno store dropshipping e portarlo alle fasi più avanzate. All'interno del video di oggi voglio portarti un altro caso studio di uno store che ha fatturato circa 350.000 dollari nel giro di pochissimi mesi ma soprattutto sta avendo un picco, il picco più alto che questo store ha avuto, quindi con un grafico con una crescita estremamente insomma evidente che sta avendo appunto proprio nell'ultimo mese. Quindi questa è una cosa estremamente utile proprio per noi che andiamo ad analizzarlo perché al contrario di altri store che magari si hanno fatto tanti numeri nel passato ma oggi sono un po' morti e quindi la gente li vende per questo motivo, nel caso che ti faccio vedere oggi questo è uno store più attivo che mai, sia dovuto alla nicchia che diciamo è precisa per l'inverno e sia dovuta anche al prodotto che è super interessante e che tra poco ti faccio vedere. Prima di partire con il video come sempre ti lascio il vincitore della guida delle top nicchie di questo momento, quindi se hai vinto tu scrivimi su Instagram e te l'andrò ad inviare. Vi lascio il regolamento quindi se volete partecipare basta che lasciate mi piace a questo video, siate iscritti al canale e commentate hashtag dropshipping keys e qualcosa di inerente appunto al video di oggi per partecipare all'estrazione che ci sarà nel prossimo video. Vi ricordo anche che qui sotto trovate la mia checklist per avere una guida step by step totalmente gratis e partire col vostro store senza che vi perdiate nulla durante il percorso e insomma trovate tutti i link utili come al solito ripeto qua sotto in descrizione. Adesso però ci spostiamo sul mio computer e guardiamo il video di oggi. Quindi ci troviamo come sempre su Exchange Marketplace e vediamo un altro store in vendita, quello di oggi è loccobanana.com, quindi nome particolare, che è in vendita attualmente a 30.000 dollari e appunto su questo sito, se non lo conosci, intanto qua di fianco trovi tutti i video precedenti di altri casi studio fatti sullo stesso e con lo stesso sito, però è una piattaforma dove appunto la gente vende i propri store e di conseguenza possiamo vedere tutti quanti i dati. Prima informazione importante, quindi in questo momento facciamo l'analisi un attimo dello store, vediamo che ha un revenue mensile di 57.000 dollari, 54.000 sono le visite mensili appunto medie e il profitto è di 9.000 dollari, che sembra un po' bassino però anche quello che dicono loro su questa esatta pagina è che molto del revenue non viene tracciato anche perché deriva magari da un funnel esterno o magari email marketing e quindi dei link particolari che portano in una pagina differente e quindi insomma monetizzano molto anche in quel modo senza che Shopify stesso riesca a tracciare. Questa è una cosa che succede anche per esempio quando andiamo ad utilizzare delle applicazioni, delle estensioni che registrano quindi il revenue, le vendite esternamente e quindi non le vediamo direttamente su Shopify. Quindi di conseguenza qui abbiamo, vabbè, il sito ma tra poco lo vediamo insieme. Abbiamo delle vendite, quindi qui vediamo già un paio di informazioni interessanti. La prima è 90 giorni, 26.000 dollari in vendite, quindi niente di così assurdo, ma adesso ti faccio vedere il vero pro di questo store. Però una prima info che possiamo vedere per esempio è questa qua sotto, che ha fatto poche vendite in, diciamo, come rapporto. Infatti adesso prima ho fatto un test e questa app è disinstallata, ma te la faccio vedere comunque perché è molto interessante. Si tratta di Honeycomb Upsell & Crosssell, che è di Conversion BR. Questi sviluppatori hanno un sacco di applicazioni molto interessanti. Io da loro prendo l'applicazione di TrustBedge, che infatti è quella che puoi vedere qui, veramente molto semplice, molto easy e ci sono un sacco di cose che vanno ad offrire tutte free o con dei vari trial o con dei piani a pagamento molto bassi. Non è una sponsorizzata per loro, però insomma mi trovo bene, quindi li consiglio. Per questa applicazione praticamente ti permette di creare dei piccoli funnel, lui li chiama, nella fase di checkout o di aggiunta al carrello. Quindi come vedi praticamente offre questo pop-up dove vedi le varie offerte prima di arrivare al checkout. Quindi, ripeto, non è magari una di quelle cose che sono tassative da avere, anche perché qui si va un po' più nell'aggressività. Quindi quando offriamo un pop-up upsell, insomma, è molto aggressivo. Quindi magari nelle fasi iniziali sconsiglio anche di utilizzarlo ed è meglio usare magari nella product page qualche piccolo sconto, qualche discount o qualche bundle già lì fisso. Invece in questo caso lo possiamo fare quando già abbiamo una costanza di ordini, sappiamo che ciò che facciamo funziona e quindi è bene anche cercare di andare un po' più aggressivi. Invece qui abbiamo un altro mese, questo dovrebbe essere il mese di novembre, dove ha fatto 200.000 dollari, quindi già vediamo dei numeri molto più interessanti e possiamo vedere anche un conversion rate 2.6%, quindi molto molto buono, ma vi faccio vedere ancora più interessante il grafico qua sotto. Quindi come vedete, quello che spiegavo appunto all'inizio nella introduzione è proprio il discorso che se andiamo appunto su degli store che hanno fatto 10 milioni di dollari in fatturato e sul Exchange Marketplace se ne trova qualcuno, però molti di questi hanno gli ultimi 5 mesi di attività totalmente a zero. Perché? Perché smettono di lavorarci e cercano di venderlo. In questo caso invece vediamo che è stato sempre su dei numeri molto bassi, 1000 poi passato a 15-10k circa, poi a ottobre ha fatto 117.000 dollari e a novembre, l'abbiamo visto prima, quasi 200.000. Quindi veramente questo è uno store che ti fa proprio percepire la forza del prodotto e quindi il fatto che possiamo assolutamente sfruttarlo in questo esatto momento. Come altre info che possiamo vedere qua sotto, ci sono le spese, veramente qualcosa di super super limitato. L'unica applicazione che è a pagamento è Vitals, 20 dollari al mese e te la faccio vedere qui. Vitals praticamente è un'applicazione che racchiude all'interno di essa un sacco di altre app. Qui esattamente più di 40 marketing apps, come vedi ha 30 giorni di free trial e poi costa una trentina di dollari. Ci può stare perché comunque dici ha tutto all'interno, quindi hai una sola applicazione che ti fa tutti gli upsell, tutti i vari bundle, i discount, le recensioni, lo sticky add to cart. Ha veramente un sacco di materiale. Io personalmente non l'ho mai utilizzata, mi sono sempre trovato meglio con il design di altre applicazioni, però sicuramente se ti trovi magari a pagare 10 app, paghi 100 dollari, Vitals potrebbe ovviare questo problema. Quindi magari dateci un'occhiata. E di conseguenza per andare a chiudere, qui non hanno il physical inventory perché questo è uno store dropshipping puro, hanno 2500 follower su Instagram, lo vediamo qua dentro. L'ultimo post risale al 7 settembre, quindi qualche mese, e come vedete qua si stanno muovendo su un tipo di prodotti un po' differente, mentre il vero pro del prodotto appunto che vi faccio vedere è su un'altra nicchia, ma adesso ci arriviamo. Qui abbiamo anche una mailing list abbastanza grande, 6000 iscritti, quindi insomma qua si può già lavorare molto bene con qualche sequenza molto insomma studiata bene di email marketing. E poi l'ultima cosa che volevo specificare è la tempistica che loro, insomma che questo venditore, ti consiglia o consiglia che utilizza lui stesso per la gestione del business, che sono circa 10 ore alla settimana. Infatti qui dice che spende 1-2 ore al giorno per mantenere il sito, la parte più difficile ma ormai che è già stata fatta è proprio trovare i prodotti, quindi prodotti vincenti che possano effettivamente funzionare. E poi mantenerlo dice la parte semplice, non sono così d'accordo, forse è la parte in realtà più complessa, cioè mantenerlo e andare a gestirlo. Però queste sono alcune info, chiaramente voi potete vedere un po' di informazioni aggiuntive, basta che andate su Exchange Marketplace, cercate il nome dello store qui nella barra appunto di ricerca e vi troverete questa esatta pagina dove potrete andare a vedere tutto il resto. Ok, detto questo arriviamo adesso allo store, quindi abbiamo detto loccobanana.com, nuovamente nome particolare, comunque questo è lo store. Lo store è veramente molto molto semplice, ci diamo un'occhiata, quindi abbiamo questo banner gigantesco nella home page. Penso sia studiato principalmente per mobile, infatti se facciamo un F12 lo vediamo già molto più gestibile, perché secondo me da desktop è veramente esagerato, cioè è gigantesco. Quindi poi abbiamo Feature Done, qui bisogna stare attenti, quindi probabilmente ci sono finiti. Di solito cosa si fa? Se questo esatto prodotto che questo appunto Dropshipper sta vendendo è effettivamente finito su queste riviste, ma magari l'ha fatto chiaramente con un brand differente o magari con qualche consiglio dato insomma random, quindi non è che ci è finito questo determinato store, allora si prende perché è giustificabile in questo modo, cioè si prendono i loghi e si mettono qua sotto. È un po' aggressivo, un po' troppo esagerato secondo me, quindi insomma questo non so se condividerlo a pieno. E poi di conseguenza abbiamo qui il prodotto. Ecco questo è il prodotto insomma definitivo e il prodotto che loro stanno vendendo attivamente. Adesso ci ragioniamo con calma, però qui facciamo un primo insomma Feature Product, quindi prodotto in evidenza. Qua sotto abbiamo delle recensioni messe così con lo Slice Show, che ci possono stare, sono interessanti. Altro prodotto appunto in evidenza, questa è un'altra versione, e qui andiamo insomma su altri prodotti, qua addirittura prodotto così messo a caso. Anche qui per farvi capire però che effettivamente se il processo di acquisto di un cliente è arrivo alla Product Page e acquisto quello, non andranno neanche sull'home page, o meglio una buona percentuale magari ci atterrà anche, ma non le dà così tanto peso. Però prima di arrivare sulla Product Page, ti faccio vedere che se andiamo su Support, anche qui abbiamo ulteriore conferma che si tratta di uno store dropshipping, o se non altro che possiamo tranquillamente andare insomma a fare competizione, a vendere gli stessi prodotti con lo stesso setup, perché le spedizioni richiedono 2-4 settimane, che è esattamente una consegna diciamo standard, Cina Worldwide, in realtà neanche standard, dico standard da Aliexpress, ma come sapete usando un agente, una piattaforma, si arriva anche sotto i 10-12 giorni, quindi sui 6-10 giorni, con una consegna per esempio di Uniexpress, si può arrivare appunto a destinazione. Quindi adesso ti faccio vedere la Product Page, prima di dirti ciò, ti voglio avvisare anche che questo, questo genere di prodotto, appunto calzature, quindi abbigliamento, accessori, scarpe come in questo caso, sono comunque dei prodotti che io di solito vado a specificare, mettere le mani avanti, dicendo facciamo molta attenzione, perché se li prendiamo da fornitori cinesi, e se non verifichiamo bene le dimensioni, la qualità, possono arrivare con delle taglie molto molto complesse da gestire, quindi molto piccole, magari un XL corrisponde a una nostra S, addirittura una M, quindi insomma stiamo attenti, qui ve lo dico anche per giustificare che cosa che comunque è gestibile. Proprio per parlare di questo discorso di gestione, sto preparando con un mio studente, un video intervista dove andremo a capire bene sia il caso studio di quello che sta vendendo, e sia anche come va a gestire effettivamente eventuali richieste, resi, taglie, e tutto questo discorso relativo appunto all'abbigliamento. Questo appunto è un ragazzo che è all'interno del mio corso da un sacco di tempo effettivamente, il mio corso è Dropshipping Keys ad oggi versione 3.0, come sempre trovi qui sotto in descrizione tutte le informazioni, all'interno trovi più di 120 lezioni step by step, il gruppo privato di supporto, le dirette settimanali di Q&A private, e un sacco di altri bonus, tutte lezioni che vado ad aggiornare costantemente, e insomma se sei interessato a partire, a partire come si deve nel 2022, trovi qua sotto in descrizione il link, e noi ci vediamo anche all'interno del corso. Tornando a noi però questa è la pagina di prodotto, quindi come vediamo qui abbiamo le foto, quindi diciamo un setup abbastanza standard, anche qui non mi fa molto impazzire la struttura delle foto che utilizza, chiaramente qui ve lo dico non perché non funziona, allo store stiamo vedendo che i numeri li fa, semplicemente con magari un po' più di attenzione, i numeri possono sicuramente andare a migliorare. Quindi cose da notare qui è che le foto hanno come vedete due strutture diverse, quindi una versione è quella con la scarpa insomma e lo sfondo bianco, l'altra versione invece è questa dove si vede una ragazza che le indossa, quindi come vedete le cose già vanno in contrasto, perché prima c'è una, poi c'è l'altra, poi si torna sull'altra versione. Qui vi consiglierei di utilizzare sempre un senso unico, quindi o usate lo sfondo bianco, cosa che magari in alcuni casi non mi fa troppo impazzire, oppure andate ad usare una foto più reale come quella che stiamo vedendo. E come altra cosa che vado subito a notare è che qui abbiamo un nome appunto di un brand e qui sotto invece ne abbiamo totalmente un altro. Questo è già un problema, molto spesso questo succede perché vediamo il prodotto su Aliexpress per esempio e ci accontentiamo di quello di come è fatto. In realtà se scaviamo un po' più a fondo si trova anche lo stesso identico prodotto, senza marchio, oppure basta contattare appunto i fornitori e fargli questa richiesta. Mi è successo molte volte nel passato che appunto semplicemente chiedendolelo, loro in realtà hanno la possibilità anche di avere il prodotto senza il marchio stampato. Comunque tornando a noi, qui abbiamo un prezzo di 39,95, abbiamo un sacco di recensioni, cosa come sempre fondamentale, poi abbiamo va bene il selettore classico, Add to Cart. Qui abbiamo subito un primo, una prima offerta insomma di upsell, di bundle discount. Questo è perfetto, con questo genere di prodotti, con questo genere anche di pricing molto gestibile e proprio la, diciamo, necessità e anche il senso poi di acquistare effettivamente due o tre colori diversi, questa è un'app super azzeccata. Per andare a capire che applicazione si tratta, quello che possiamo fare è scavare un po' più nel codice. Questo è una cosa un po' tecnica, te la faccio vedere comunque perché può tornarti utile, quindi quello che faccio è fare tasto destro, ispezione, in modo tale che ci apra appunto questa sezione sulla destra, come vedi, di appunto codice, e poi uso questa freccetta che c'è qua sopra, mi posiziono su il contenuto, quindi questa alla fine è un'app, voglio capire di che si tratta. E quindi come vedete, qui ci sono tutte le indicazioni relative a appunto il codice di quell'applicazione, quindi in alcuni casi troviamo già qua dentro il nome appunto dell'app, oppure se andiamo tutto in alto, troviamo tutte le applicazioni, quindi text javascript, applicazioni appunto di Shopify, che sono installate sullo store. Quindi vediamo per esempio Clavio, benissimo, sappiamo che ce l'ha installato, e poi vediamo questo app AppSell, e possiamo vedere che è di Conversion Beer, quello che vedevamo prima. Quindi abbiamo AppSell e Bundle. Di conseguenza andiamo su l'App Store, e qui sotto ci troviamo, come dicevamo prima, insomma tutte quelle applicazioni, quindi apriamoci nuovamente anche l'app che abbiamo visto prima, ma dovrebbe essere questo, quindi Bundle Beer, esatto, come vedi il setup, la struttura è esattamente quella. Quindi qui ti faccio vedere esattamente come trovare le applicazioni su uno store, e in questo caso, ecco, questo è già un'altra app che ti consiglio. Anche qui vediamo un po', ok, ha 14 giorni di free trial, e poi 20 dollari, questa è l'esatta app che questo store sta utilizzando. Ovviamente è super interessante, super consigliata, come ti dicevo, poi passiamo anche a, appunto, la descrizione, dove qui abbiamo una struttura, ripeto, molto molto semplice. Quindi abbiamo un primissimo titolo, con in realtà un bonus, qui vabbè, sono rimasti un po' indietro sul Black Friday, ma va bene. Poi abbiamo subito le feature con la checklist, appunto, di, insomma, i pro, i benefici del prodotto. Nuovamente titolo, immagine, e poi abbiamo le varie taglie con la conversione, cosa fondamentale, e ulteriormente un piccolo slideshow di immagini, con garanzie e shipping. Questo è esattamente un tipo di struttura finale, di chiusura, che vado anch'io a consigliare, e poi chiudiamo con le recensioni. Quindi anche qua, in realtà, io farei un lavoro molto molto differente, quindi cercherei di scavare un po' più a fondo, su magari trovare dei contenuti un po' migliori, e su fare anche una descrizione, che sia strutturata magari un po' diversamente. Qui facciamo nuovamente un F12, perché come vedi, vederla, insomma, da mobile, è molto molto meglio. Qui un consiglio che vi do è anche quello, voi stessi, quando andate a costruire lo store, di farlo principalmente per mobile. Quindi non impazzite su ottimizzare le cose per desktop, che è chiaramente una cosa che va fatta, ma magari in uno step successivo. Se all'inizio sappiamo che il 90% delle interazioni deriva da mobile, è bene creare lo store e modificarlo, per ottimizzarlo al 200% per la versione mobile. Infine, come ultima cosa che vi faccio vedere, andiamo anche su Aliexpress. Nuovamente ve lo faccio vedere solo per comodità di, insomma, recuperare i prodotti e andare a guardarli. Se cerchiamo il nome del prodotto, ci troviamo esattamente quello che stanno vendendo, che è quel prodotto che c'è appunto qua sotto. Ci sono un sacco di versioni, quindi anche qui ragionate, ragioniamo un po' sul fatto che andare a creare uno store, magari specifico, su una sottonicchia tipo Winter Boots, con questo, insomma, questi inserti, no, così caldi, può essere sicuramente una mossa vincente. Qui di conseguenza sono andato ad aprire anche il prodotto specifico, che è questo, che costa un 15 dollari, con spedizione Aliexpress Standard Shipping, e loro vendono a una quarantina di dollari. Quindi sicuramente anche qua possiamo tranquillamente andare a replicare questo tipo di vendita, per avere comunque un profitto decente. E una cosa che ci tengo a specificare, qua dentro ogni volta che vedete Aliexpress Standard Shipping, voi qui vedete 16 gennaio, quindi ad oggi è praticamente un mese di consegna. In realtà non è così, quello che ci tengo sempre a specificare è che la Standard Shipping di Aliexpress richiede circa un 7, 8, 15 giorni come tempistica di consegna. Che venga messo questo 16 gennaio, mi ricordo che veniva messo anche sulla consegna e-packet quando c'era, parliamo di più di un paio di anni fa, e quindi insomma ci tengo a specificarlo, perché altrimenti guardate Aliexpress, vedete consegne minime praticamente di un mese, e lo andate a scartare. E nuovamente va bene scartarlo, ma sappiate appunto questa informazione. E poi quello che dicevo è quindi, ok abbiamo qui un marchio che è BN, quello che possiamo fare è contattare il fornitore, oppure un altro consiglio è quello di scorrere fino in fondo la pagina, perché quando trovate un prodotto Aliexpress ve ne propone molti altri simili. Infatti come vedete qui se ne trovano dei diversi, e sono andato a trovare questo, che è una versione praticamente identica, che costa addirittura un po' meno, quindi 10 più 3 dollari, quindi un 13-14, e non ha il marchio. Quindi così potete giustificare anche la vendita con un qualunque nome del vostro brand, senza rischiare che sia compromesso già da appunto un marchio come quello del prodotto di prima. Oppure l'alternativa è quella che in realtà qui non abbiamo un nome completo, abbiamo solo una piccola sigla, quindi potremmo creare un brand che riprende questo BN per esempio nel nome. Sono due opzioni, sicuramente quella pulita probabilmente è la cosa migliore. Come sempre vi faccio vedere anche CJ Dropshipping, se cerchiamo Cosi Winter Boots ne troviamo di diversi, e qui quello che sono andato a recuperare è appunto questo, che è appunto lo stesso, sì un po' particolare, un po' differente, però ci sono centinaia di pagine da scorrere, per ora ho trovato questo qua, che abbiamo appunto con un prezzo un po' maggiore, 17 dollari, ma come sapete su CJ Dropshipping abbiamo un discorso di gestione migliore, un contatto più diretto con gli agenti, quindi magari si può contattarli, chiedere di fare qualcosa di meglio sul prezzo, e una cosa, un esempio che faccio molto spesso è che, quando mi capitò di fare una richiesta, questa me la ricordo sempre perché era assurda, nel senso che mi avevano trovato un prezzo, avevo chiesto se potevano fare qualcosa di meno, e addirittura mi avevano fatto risparmiare un 30%, solamente chiedendo se si poteva fare qualcosa di meglio, quindi vi invito anche voi insomma a fare lo stesso. Quindi in conclusione, quello che vi ho fatto vedere nel video di oggi, è effettivamente uno store vincente, possiamo andare a valutare tutto quello che vogliamo sullo store, modifiche da fare, prodotto che non va bene, ma i numeri li sta facendo, vediamo il grafico in estrema crescita, e essendo un prodotto comunque invernale, penso che possa essere venduto tranquillamente, fino a probabilmente fine gennaio, febbraio, magari addirittura marzo, per poi potenzialmente andare a venderlo anche in quei paesi, che hanno insomma le stagioni al contrario, quindi in realtà è un prodotto che risulta essere più o meno evergreen, oppure possiamo gestirlo con dei prodotti invece estivi, sempre fatti magari con questo materiale interno, ma all'esterno, insomma qualcosa di design di questo tipo, per gestirlo tutto l'anno. La cosa più importante di tutte è però il numero e i particolari che ti ho fatto vedere di questo store, quindi spero che il video di oggi ti sia piaciuto, se così fosse fammelo sapere con un commento qui sotto, lasciami un mi piace, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, e noi ci vediamo al prossimo video!